Abbiamo fatto una bella prova sotto tutti gli aspetti, sotto un aspetto difensivo, di controllo del ritmo, di poche palle perse, di buona circolazione di palla a tutti i dieci giocatori. Quindi, secondo me, spremendo sia una buona mentalità che una buona pallacanestro e quindi non posso essere che soddisfatto della prestazione di tutti quanti. E' chiaro che nel momento in cui c'è una rotazione così ampia e tutti rispondono presente, che è quello che io ho chiesto alla squadra e detto qua in conferenza venerdì, tutto diventa molto più facile sotto tutti gli aspetti. Particolarmente soddisfatto sull'attenzione che ha messo i giocatori nel non prendere contropiede e tiri in transizioni. Sono stato contento che abbiamo tolto, diciamo, quello che viene chiamato skip, cioè un passaggio incrociato da un lato all'altro negli angoli dove loro sanno attivare tantissimo i loro tiratori. Siamo stati molto attenti e quindi abbiamo messo molta attenzione in tutte le situazioni. Ne volevamo giocare tanto post-up sia con i lunghi ma anche con gli esterni, ci siamo riusciti e non abbiamo avuto particolari problemi contro la zona. Quindi direi che è stata la partita che volevamo, addirittura in meglio perché abbiamo giocato veramente bene. Io credo che Pistoia sicuramente era senza un giocatore che è buon della rotazione dei lunghi, però alla fin fine è una squadra che ha giocato sempre le partite, ha vinto l'ultima, si è battuta nelle ultime gare, quindi comunque era una partita da prendere sicuramente con grande attenzione. Mi fa piacere anche aver dato qualche minuto a Salvatore Parlato, che è riuscito a stare in campo bene. Mi ha fatto piacere anche che ha rinunciato al primo tiro per passare a Palazzerini, che non mi piace neanche che sia quello che deve entrare e far canestro. Ha avuto qualche minuto a Palazzerini, insomma alla fin fine è stata una rotazione per tutti e un premio per tutti quanti. Direi abbastanza bene. Beh, io non mi permetto di dire l'atteggiamento loro come è stato, ecco, io guardo l'atteggiamento mio. Io avevo una richiesta particolare dei ragazzi che è quello sempre, cioè uno ne parlavo prima della partita, no anzi, ne parlavo all'intervallo con Alberani. Il sogno di un allenatore è avere 10 scrub, cioè tu lo metti dentro dopo 12 minuti che l'hai fatto congelare, o tu lo metti dentro al 38esimo, o lo metti dentro a 12 minuti, questo qui entra e gioca. Ecco, senza fare facce, smorfie, se tocca la palla, se non tocca la palla. Perché dico questo? Dico questo perché poi alla fin fine la grande forza della squadra deve essere quella di giocare con 10 giocatori. E 10 giocatori giocano se chiunque entra, c'è un approccio importante. Perché poi quando c'è troppa rotazione, allora però sono freddo. Se ce n'è poca però sono stanchi, invece la grande forza è proprio di avere una mentalità come quella che c'è a Thomas. E tu a prescindere lo prendi e lo metti dentro. E credo che oggi, mi pare sia stata una risposta alla mia richiesta, che era quella che continuo a dirgli che alla fine loro devono entrare. Perché se poi entrano tutti e 10, e tutti e 10, non dico che fanno la partita stupenda, ma fanno una partita con la sufficiente, con un po' di solidità, poi per l'allenatore è facilissimo. Perché avete in campo quelli che più gli serve nei momenti a seconda della squadra avversaria. Ma invece uno non va perché è stata presa su un piede, uno non va perché non segna mai, uno non va perché non difende, allora devi sempre cercare qualcosa. Invece avere una solidità è molto molto importante. Quindi io non so dell'atteggiamento di Pistoia, so sicuramente che l'atteggiamento dei miei è stato un atteggiamento molto propositivo, costruttivo e piacevolmente concentrati nell'eseguire, avere il focus sulle cose tecniche e tattiche che avevamo preparato. Ma io dico che Dez è un giocatore di estremo talento. Diciamo che senza nulla offendere gli altri, è uno veramente dei pochi che può costruire un tiro da solo, cioè con la palla in mano. Struire la palla, se c'è un po' di isolamento, è uno che è capace di costruire un tiro da solo. Come tutti i giocatori al primo anno in Europa, perché alla fine dieci partite in Grecia in una squadra che non pagava e che è arrivata ultima non ha dato nessun insegnamento, ogni tanto fa un antisportivo per frustrazione che mi è sembrata veramente una stupidata che non ha nessuna ragione di esistere. Ecco, ogni tanto con l'aria piena si butta dentro perché se non segna gli viene male la pancia, invece deve capire che la palacanestro non è una palacanestro solamente di corri e tir, è una palacanestro anche di spazi, di tempi, di ritmo. Poi non so se avete visto ieri, c'è stato una... Girando poi i canali ho visto un pezzo su Sky dove c'era delle interviste a NBA, c'era Lara Naga che parlava, non so che trasmissione fosse, comunque c'era lui e c'era Jerome Allen che parlavano e fanno l'assistente ai Boston. E loro dicevano, alla fin fine in NBA si fanno le cose che in Italia si facevano dieci anni fa. Quello che ha portato Mike D'Antoni, quello che ha portato... E questa cosa è una cosa che mi ha fatto riflettere perché io chiaramente probabilmente non valgono un'unghia agli allenatori che sono, che allenano in NBA, però fa riflettere su come... Non so, io sono in contatto sempre con Pace Manion che è un mio amico carissimo, piuttosto che qualche... E dicono che gli spazi, i tempi, i ritmi, il movimento della palla, tante cose che si fanno in Italia e cominciano ad arrivare là dove invece un corri e tira. Ecco, perché ho detto questo? Ho detto questo perché mi viene in mente la domanda che mi avete fatto su Wes, cioè nel senso che lui è abituato ad andare su e giù, correre con grandi spazi e quando c'è un po' di spazio tira giù il canestro insieme a tutti quanti, poi quando i difensi sono un po' più chiuse, c'è un po' più da ragionare, c'è da passarsi la palla, bisogna essere un pochino più presente. Io credo che se lui migliorerà, e sono sicuro che lo migliorerà, piano piano, se migliorerà queste cose, è un giocatore di alto livello. No, questo non lo so. Sulla valla non lo so. Non ho idea. È una cosa che è una cosa che volutamente io cancello dalla mia testa perché non voglio essere influenzato da quelli che sono presenti e che giocano. Quando lui inizierà a fare un po' di 5 contro 5 con noi, allora da lì valuteremo i tempi di recupero. Sta facendo sicuramente un ottimo lavoro con il preparatore, con i nostri fisioterapisti, però non ho idea del procedimento che avrà lui e se dopo la pausa comincerà piano piano ad entrare con la squadra. Su Ariel ha fatto sicuramente molto bene in campionato, ogni tanto alterna qualche prestazione un pochino meno viva, non dico cattive partite, magari un po' meno viva, però sappiamo che è il nostro giocatore di riferimento, affidabile e di buona forza. Sulla Coppa vediamo. Ecco, c'è stata sicuramente grandissima delusione non aver vinto a Bonn, di cui ancora adesso ci ramarichiamo, però andiamo avanti. Adesso c'è una seconda Coppa e vedremo questo scontro diretto quanto ci porterà. Diciamo che non siamo tanto focalizzati su questa Coppa adesso, nel senso che siamo pochi giorni dalla Coppa Italia, quindi adesso pensavamo tanto a Pistoia e pensiamo tanto lì. Poi c'è una pausa che in verità dovrebbe essere di riposo, poi di tanto riposo non è, perché tanti giocatori faranno le nazionali, dove anzi magari quelli lì arrivano particolarmente stanchi che fanno tante partite in pochi giorni, qualcun altro invece lo devi tenere, insomma poi dopo bisogna calcolare tutti quanti tutti i tempi.